Palazzo locale, noto anche come regia dei Gonzaga, è uno dei principali edifici storici cittadini. Durante la denominazione di Maria Teresa d'Austria fu denominato anche Palazzo Reale. Ambienti distinti furono costruiti in epoche diverse, a partire dall'VIII secolo, inizialmente dai Bonaposi e successivamente dai Gonzaga. Duque Guglielmo ha incaricato il perfetto delle fabbriche, così da creare a partire dal 1556 un grandioso complesso monumentale. Entriamo al Palazzo Bucale per fare una breve anticipazione di ciò che vedremo. Anche a noi abbiamo l'appartamento dell'imperatrice. Siamo arrivati alla sala da pranzo dell'appartamento degli Arazzi. Eccoci arrivati a un giardino interno del Palazzo del Capitano. Speriamo che il nostro viaggio vi sia piaciuto. Arrivederci!